Benvenuti tifosi napoletani. Il giocatore Matteo Politano è in procinto di allacciare un legame solido con il Napoli, considerato un impegno a vita. Ma prima di proseguire con i dettagli, ti chiedo di iscriverti al canale qui per rimanere aggiornato quotidianamente. Le prestazioni continue di Politano sono state assolutamente vitali per il successo della squadra del Napoli, con la sua capacità di fornire assist e segnare gol. Dopo la partenza di Lozzano, Politano si è affermato come il giocatore più eccezionale del Napoli quest'anno. Ma con l'arrivo del neo-assunto Lindstrom si prevede una concorrenza significativa. Politano però vuole evitare ogni contesa, lavorando instancabilmente sia sulle sue doti offensive che difensive. Politano è attualmente legato al Napoli con un contratto valido fino al 2024, con possibilità di rinnovo per un altro anno. La prossima settimana è previsto un incontro cruciale tra il club e la gente del giocatore, con l'obiettivo di negoziare un nuovo contratto che lo terrà legato al club fino al 2028, compreso un sostanzioso aumento di stipendio. Caro tifoso, vorremmo conoscere la tua opinione sulla prestazione del giocatore in questa stagione. Per favore condividi i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e condividere questa notizia. Restate sintonizzati, presto vi forniremo ulteriori aggiornamenti.